Il presidente dell'API Alfonso Marcozzi torna nuovamente all'attacco sulla questione dell'Arap, denunciando il fatto che l'azienda che gestisce le aree industriali continua a chiedere soldi pur non fornendo alcun servizio. Per questo motivo il presidente dell'API ha convocato per la giornata di domani una riunione con le imprese del nucleo industriale di Teramo al fine di valutare eventuali azioni nei confronti dell'ente. Al centro dell'incontro le cartelle di pagamento che variano da poche centinaia diverse migliaia di euro in base alla grandezza dell'impresa. Un tema, quello dei pagamenti richiesti dall'Arap alle aziende che hanno i capannoni all'interno dei nuclei industriali che non riguarda solo Teramo. Infatti la scorsa settimana a minacciare il ricorso erano state le associazioni di categoria aquilane che avevano denunciato l'invio alle imprese da parte dell'azienda regionale per le attività produttive di fatture relative a generiche spettanze. Anche in quel caso le associazioni avevano sottolineato l'assoluta carenza di servizi riuscendo ad ottenere la sospensione dei pagamenti in attesa del pronunciamento definitivo del Consiglio dell'Arap. Come Api abbiamo convocato un incontro con le aziende del nucleo industriale, sottolinea Marcozzi, per definire un'azione congiunta volta a tutelare le imprese. L'Arap infatti sta continuando a sollecitare pagamenti per servizi non resi senza considerare la totale assenza di infrastrutture a servizio delle imprese. E se non tornerà indietro siamo pronti a procedere per vie legali.